Tiziana Panetta, siamo al Parco Roia, questa è una delle aree più importanti e strategiche per il futuro di Ventimiglia. Quali sono i vostri progetti su quest'area? Sì, questa è un'area strategica di interesse regionale, devo dare qualche dato tecnico per non tediare troppo, però l'ascoltatore cercherò di limitarmi. Sono 285 mila metri quadri di aree ferroviarie attualmente dismesse e quindi c'è il progetto della riconversione di queste aree. Partendo dal 2008 l'accordo di programma che vedeva coinvolti gli enti interessati, regione, provincia, ferrovie che sono i maggiori proprietari ma anche il demanio, parte dal 2008 questo accordo di programma per riconvertire le aree. Nel 2014 poi i commissari del comune di Ventimiglia fanno questo accordo di programma, stipulano questo accordo di programma per riconvertire appunto la zona modificando il PUC perché fino ad allora la previsione del PUC era soltanto di utilizzare queste aree per interesse delle ferrovie. Modificano il PUC e prevedono ben 145 mila metri quadri di zone da destinare al commercio. Gli interventi non sono possibili, noi oggi sappiamo perché e sappiamo anche come poter andare a modificare quello che era stato previsto. Non sono possibili perché come dicevo sono aree in parte di proprietà del demanio fluviale e occorrono delle opere e degli interventi prima per sdemanializzare le aree e quindi renderle utilizzabili e quindi attraverso gli interventi idraulici necessari per poter rendere utilizzabili queste aree, porre le condizioni per quindi riconvertire la zona. Noi cosa vogliamo fare? Modificare il PUC perché la previsione commerciale di ben 145 mila metri quadri comporta per il nostro centro cittadino un danno enorme. Quindi attraverso il PRRI, il progetto di riqualificazione e riconversione industriale, guardando alla nostra vicina Francia, alle piccole industrie di Monaco, prevedere una possibilità di utilizzare queste aree a livello artigianale e industriale. Ma non solo, siccome le aree sono molto estese, fare un parco urbano di interesse comunale e anche utilizzare per interventi ludico-sportivi, quindi utilizzare parte di queste aree anche con questa destinazione. Con la tempesta Alex, cioè a seguito della tempesta Alex, il piano di bacino è cambiato e quest'area è diventata zona rossa. Quindi per utilizzarla bisogna fare degli interventi, ovviamente. Cosa prevedete? Sì, come dicevo prima, è assolutamente necessario e prioritario sdemanializzare, fare gli interventi idraulici e fare tutti gli interventi delle opere di protezione proprio per consentire di rendere la zona assolutamente utilizzabile. E quindi questi interventi delle opere di protezione degli argini di cui tanto abbiamo parlato devono assolutamente essere prioritari e fatti nel più breve tempo possibile. Come prevedete di collegare il centro cittadino di Ventimiglia con il parco Roia? Questa è anche un'altra idea che abbiamo avuto, che abbiamo già cercato di sviluppare, per utilizzare un binario, quindi mettere un treno che porti da qui, da questa zona qui, fino al centro cittadino, perché il binario arriva fino ovviamente alla stazione e quindi questo consentirebbe anche di parcheggiare e entrare in centro città senza nessun problema per gli utenti dell'area, della zona.